Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, questo detto di antica saggezza popolare ci ha spinti a documentarci direttamente sullo stato di salute del nostro ponte Morandi a Catanzaro in attesa che Anas Calabria esca dalle generiche e per nulla tranquillizzanti rassicurazioni. Con l'ausilio di un drone autorizzato abbiamo scattato nella mattinata del 17 agosto alcune foto dei pilastri del viadotto, le foto per la loro risoluzione non hanno bisogno di commenti, le consegneremo ufficialmente al sindaco Abramo scrivono dal gruppo consigliare di Forza Italia in modo che possa a sua volta utilizzarle nel confronto che avrà con l'azienda, ci siamo comportati come forza politica responsabile che non suscita allarmismi inutili ma che nemmeno si gira dall'altra parte quando di mezzo c'è la vita e la sicurezza dei cittadini, se a Genova non ci si fosse fidati troppo delle rassicurazioni dei tecnici, quell'immane Sciagura non sarebbe mai avvenuta. Il nostro, concludono dal gruppo consigliare di Forza Italia, è un contributo alla chiarezza. Restiamo in attesa che Anas fornisca ufficialmente le carte e i documenti assumendosi la piena responsabilità della sicurezza del ponte Morandi di Catanzaro.